buongiorno a tutti e benvenuti e la miseria ancora questi qua che parlano sotto abbiamo acquistato i diritti ci sono ancora questi qua sotto che parlano ma non si può regia regia basta basta ma ancora questi qua sotto che parlano basta hanno rotto le balle si vengono pagato 4 milioni d'euro a partita dopo ci sanno questi a rompere le balle sono andati via e di lei torna qua che sono andati via o finalmente se ritornano spacco tutto ne tanto questa è la squadra che seguiremo per l'intera stagione ovvero il leicester city con i nuovi acquisti chambers dall'arsena in prestito di esteban cambiasso ecco qua è ancora questi qua porca miseria lo devo dire io che debutta cambiasso porca miseria ed ecco qua il fischio d'inizio della stagione ripeto tutte le partite in esclusiva solo su questo canale del leicester city sul canale di plastic man ed inizia subito la partita benvenuti da edile plastico e ronaldinho sempre qua con voi e comunque prendi abbastanza come teleconista e mamma sono troppo forte a fare teleconista e mi devo pagare tanto anche perché ho cominciato anche a giocare con messi in messico e quindi mamma santa potremmo prendere la palla e perde subito la palla contropiede ed è qua sono già in porta quelli del leicester sono già in porta il tiro a no centrocampo e passaggio di cambiasso sbagliato recupero la palla leverton pina ruba la palla del leicester invece no bains la madonna cosa ha fatto lui e riparte pina ruba la palla il leicester chambers in prestito dall'arsenal durante il mercato estivo è arrivato insieme ad un altro giocatore dal genoa e a esteban cambiasso a titolo definitivo dall'inter morgan chambers drink nujet il contropiede incredibile lui è urlo è davanti al portiere e invece no con le mani bains passa per pinar per berri 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 c'è stato credo un fallo visto dall'arbitro e mamma a gaiocci nel culo quell'arbitro lì ha visto niente a mamma se le fallo quello guarda che fallo è stato eh mamma cosa fa quello la che butta via la palla è matto quello la calcio di punizione sul posto mccarty senza barriera senza paura leverton prende la palla miraias miraias non so cosa fare nei smith ruba la palla drink water per new gent mercarti subito lì a mamma aggapiato le caviglie aggapiato per rubargli la palla quello lì casso drink water drink water che in italiano è bevi l'acqua nostra no 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 non c'ho set grazie perché è mai detto bevi l'acqua ho detto che quello la si chiama drink water in italia no 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 non ho set grazie va bene tanto nesmith smith durante portiera in grandissimo intervento difensivo degli easter city quindi ci sarà un bel niente piede a banana per nesmith in questo caso l'invio di come si chiama questo che casper si casper michael tanto grande azione qua new gent per ulloa e sbaglia il passaggio ulloa ruba la palla davanti portiera ulloa gol di ulloa che porta in avanti leicester e cosa fa questo il passo del tocchino guardalo e mamma che faccia che ha fatto questo imbecille e qua dopo il passaggio sbagliato ulloa riesce a guardare la palla al difensore a buttarla in rete impietrito haward che rimane lì soltanto guardare la palla gol di leonardo l'ho al 23esimo leicester in vantaggio non poteva iniziare meglio questa stagione sia per la squadra che per noi berri ma mamma che ha fatto un grande gol quello lì eh sì berri per coleman ancora per berri berri è in area di rigore sta penetrato ma spazza via il leicester per la palla jazelka mccarty barkley ancora per berri pinar pinar è davanti al portiera il tiro alto sopra la traversa e mamma doveva girarsi doveva fare una veronica superava un giocatore dopo faceva una francesca e dopo tentava il tiro ovviamente rovesciata perché sennò non si pede fare una cosa del genere ah è certo poi tutti i drivi dopo è rovesciata mi sembra così eh mamma come vuoi come tavo a tirarlo ah capisci un cazzo te del pallone intanto cambiasso arrivato dall'inter svincolato dall'inter non ha rinnovato ed è arrivato qua in per queste esperienze in premier league Baines li inciuca tutti il leicester pressa non riesce a far ripartire l'Everton che la mette in mezzo ma perde subito la palla Wood Wood davanti al e c'è il tiro è la grande parata di Howard forse sarebbe andata fuori la palla però per i fotografi questo e altro parte l'Everton Barry Barry supra uno parla per Barkley si gira non so a chi passare passa ancora Barry Barry per Nesmith il tiro è la passata portiera che ha tirato in bocca al portiere Uloa per Nugent che per un pelo non la prende riparte subito l'Everton che ruba la palla per Drinkwater in italiano bevi l'acqua ancora non c'ho sete cazzo smette di rompere le balle ok Baines McCarthy non ti dico più niente oh bravo Pina Corper Baines pressing costante del Leicester City allenato da Roberto Mancini nuovo allenatore è arrivato anche lui a inizio estate con grandi risultati nelle amichevole di Thunanavitopper 1-0 contro Paris Saint-Germain Coleman 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 la mette in mezzo per Barkley che si stava quasi arrivando e quasi perde la palla il Leicester due minuti di recupero segnalati dal dal Cambiasso che ruba la palla Cambiasso la passa per Uloa il giocatore che ha segnato la palla per Nugent il tiro e la parata di Howard e mamma che mezzo cioffecca del tiro che ha tirato se c'ero io la buttavo agli incrozi guarda e finisce qua il primo tempo 1-0 per il Leicester City contenti tifosi dei Leicester non è che vengono qua i tifosi del non lo so del lo scettico Bilbao a tifare però le squadre tornano negli spogliatoi ecco qua che è la nostra regia di Angelo Cartosio fa vedere un paio di replay ma a me sembra di stare a vedere una gara di nuoto guarda quanta acqua che c'è sta qua ecco qua il nuovo acquisto in prestito che ammazza un giocatore dell'Everton e qua eh mamma qua è stato bravo rubare la palla e dopo PUM mamma che gol che ha fatto sei proprio un imbecile ti sei stato fermo ti potevi buttare qua Pinar che la butta fuori e qua i risultati delle altre partite al secondo tempo eccoci qua al secondo tempo che inizia con il Leicester City che ha la palla indietro per Morgan quindi mi sta dicendo caro Ronaldinho che ha iniziato con con l'altro squadra che si chiama Queretara Libo eh sì ho cominciato guarda grande partita ho fatto 5 gol in una partita bombano non ci credo fammi vedere il certificato dei 5 gol eh mamma sei proprio un pezzo di merda guarda intanto la palla in mezzo Neismith quasi gol ha un po' la maglia sporca ecco qua colpo di testa e intanto non sapeva manco lui dove fosse la palla intanto dicevo che questo è Casper Schmeichel figlio del leggendario portiere ex United Peter Schmeichel dopo devo controllare sperando di aver detto una cavolata di aver invertito i nomi recupera la palla il Leicester Upson per Morgan ora per Chambers tazzino destro prestito dall'arsena recupera la palla ma la perde subito Leverton e c'è già al 54esimo un cambio per Leverton un boato di fischi per quel testa che esce da Leverton esce Neismith e l'entra e l'entra e l'entra Samuel Toccololi e mamma l'è forte quello e sì anche con i soldi è forte comunque dicevo con Ceschi e anche io non scherzo e te si sa 4 milioni è partita puttana miseria e non sono pochi e Chambers e lui la passa per Wood bella l'idea ma il passaggio troppo troppo in avanti rinvio di Howard subito Peretto che fa subito un fallaccio e mamma sbuttalo fuori arbitro buttalo fuori e gagne dato l'espulsione guarda minima espulsione comincia per Upson per quello lì non lo nomino ma ma facciamo questo nome eh palla per un lò si zira e perde la palla Miraglias giocatore belga Barkley giocatore inglese per Baines anche inglese nazionale inglese palla per McCarty che non lo so si destrezza ma perde la palla Gonseschi un po' pressato ma riesce rischiando un po' col passaggio Hammond Hammond parte lui Diego Armando Hammond il figlio legittimo di Diego Armando che la passa per Wood ma ha sbagliato il passaggio la palla esce ancora una volta e c'è un altro cambio è ancora una tonnellata di fischi per quelle test del caso questa volta esce McCarty per lasciare il posto Gibson per Leverton parte ancora attento di partire di Leicester ma non se la fa recupera Baines con un lancio per Pinar 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 può che dice sulla fascia può entrare nell'area di rigore ne beve uno ne beve un altro si ubriaca la passa ancora per Baines che la mette in mezzo colpo di testa grande intervento di Schmeichel con Ceschi va a dire bravissimo intanto grande Miraglia eh mamma Zanielu come ha fatto a parale ha incrociato le mani per buccio da culo no però è stato bravo è stato bravo calcio d'angolo di Miraglia presa sicura di Schmeichel e sbaglia qua uh errore quasi di Schmeichel con il rinvio con le mani la gara è scatto quello lì di fare la cagata e di farmi perdere la scommessa perché la scommessa ah eh non ti bastano i 4 milioni a partita eh no non mi bastano mai tutto qua l'arbitro potrebbe fischiare invece no lascia correre Pinar Pinar parte passaggio sulla fascia per Barkley che la mette in mezzo e c'è la presa sicura di Schmeichel che la passa con Ceschi intanto mi dicono dal coordinamento che ci saranno dei cambi anche per il Leicester City addirittura 5 cambi ci saranno 5 cambi per il Leicester City e quelli dell'Everton potrebbero potranno fare ancora 7 cambi ah non 3 va bene ok lo dici te e noi ci crediamo intanto quasi errore del Leicester in difesa che spazza via un lò potrebbe andare a prendere la palla al tiro o no presa sicura di Howard portiere dello United statunitense che ha fatto delle gran belle parate al mondiale ed ecco qua i cambi per il Leicester City intanto vediamo non vediamo fuori gioco triplico cambio esce McAllen no entra McAllen per Hammond Burgui in prestito da Real Madrid per Cambiasso e King per Wood triplo cambio due in centro campo e uno in attacco poi entra anche Lukaku per Barkley per Leverton ecco qua Lukaku ma perché l'hanno lasciato in panchina che l'è forte quello lì hai ragione il giocatore del intanto un loa un loa è solo in aria il tiro Howard la para ancora un loa sulla linea incredibile quasi 2-0 e doppietta per Leonardo un loa che ha segnato al 23 del gol numero 23 mi sembra giusto palla per Zembers Zembers per McAleny un nome più difficile della palla fuori per King c'è la deviazione in calcio d'angolo si prova all'ultimo salto per l'Ester per buttare dentro un altro gol e fare 2-0 cosa fanno questo ma se mi stanno sul calcio con i calci d'angolo qua Morgan il difensore la mette in mezzo per Nugent un'altra deviazione questa volta Howard deve sbrigarsi perché la partita sta finendo per Baines Baines Diego Armando Baines lui parte un altro figlio e finisce qui il tripudio dello stadio 1-0 del Leicester City alla prima di campionato hanno incominciato bene dai bella partita gran gol subito nel primo tempo con quel deficiente qua che attraversa la rete è apparente da quello che cammina sulle acque grande partita ecco qua ancora il nostro resista Cartosio che fa partire altri replay che abbiamo visto anche nel primo tempo bella partita qua vediamo la nuova piscina olimpica che è stata fatta dentro lo stadio ovviamente in Inghilterra sono più i giorni che piove che quelli che c'è al sole quindi non c'è da strabiliarsi qua il grande gol di Ulloa ma fa la mossa del tacchino e qua lo sbaglio di Pinar e qua tutti i risultati delle altre partite della prima giornata ragazzi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao